la mia sciarpina zozza appena inizia a camminare vola perché faccio delle grandi scorreggie infatti parto a reazione anch'io appena inizio a camminare la sciarpa mi si impegna bastardo ma come era un trick che fa sto scivurito ma andate con la bicicletta sempre tu sempre io non fa danno ma la bighetta fa del danno ma scusa l'hai quasi ucciso la bici mori uolo ha fregato la b torna indietro signora porca troia o dentro o fuori c'è che cazzo affanculo sta lì sta scema no ma inculato ma inculato il culo ma inculato allora potete venire qui facciamo questo ti faccio vedere ma che cazzo hai visto che il rumore fa hanno ricreato proprio un museo per... oh no c'è uno di quelli ah che puttana che power ma questo qui è un deficiente questo qui è un coglione di merda vaffanculo vaffanculo dai dai no non si fa non si fa non scappare nel nulla ponita per favore grazie dai ma che merda vaffanculo che brutto ha fatto anche il pop ha fatto proprio a sfregio così signor fettido ahahah la mano no dai le ho preso la mano è morto eh sono contento che sia morto però che cazzo che figo così tanto sono l'unico che ha fatto una kill fino adesso no io prima ne ho fatta una prima questa è una partita e adesso sono l'unico ehhh madonna che buona eh vedi eh che ha fatto le kill che vedi che buona parte a lui che paura mi faccio paura io penso un po' te c'era un plotone d'esecuzione c'era linda mi senti? ma tu sei una puttana che paura si però che tarocchi ha visto lo sviluppatore? will of fortune come funzionano? ma come fanno essere tarocchi questi? sono le carte mie che cazzo fortissimo nell'orecchio come funzionano? fatto non scappiamo più niente no sono morto che è successo? perchè siete morti? non lo so oh mio dio era dentro era fuori era dentro quelli mi menano? no vero si mi menano bastardo guarda quanto no ce la faccio ce la faccio ce la faccio no lui non è ghiaccio vero? lui è solo acqua secondo me è che ghiaccio chi se chi se chi se? oh no gli arcieri del cazzo del re o legolas fie c'è? quanti sono? quattro che coglione che coglione che coglione l'ha ucciso guarda che saranno stronzi questi eh non posso fare niente si è messo il cappellone si è messo sono in guerra con me stesso ah ma io c'ho un figlio si è diventato il nuovo capo della dinastia acquaioli ma sono morto e come sono morto? ma non ho capito chi ci faceva in coppare una barca? e che cazzo del re ma perchè scusa? ma che cazzo del re eh che ti devo dire è un ricoglionito si può trapassare qua sotto? no ah che puttana c'era già un schermo vai a vedere non c'è niente ci switchiamoci e come ci switchiamoci allora eeeh sono nel menu ma di lui l'ho visto era un trippo è dietro di te è dietro vai via vai via vai via vai via gli misura la febbre gli misura la febbre ho mangiato ma che schifo di mostro ahahah è tutto lungo e duro è veramente il mostro misero ma che significa? oi lino non cambiare discorso c'è uno sulla nostra sinistra boni boni qual è la sinistra? ok boom headshot merdoso del cazzo sei morto stronzo eeeh no che cazzo scemo e allora metto il 64 tangela guardalo lì ma si può cioè guarda ti avvicini ovviamente è normale guarda si vede il cambio di rip...ma non può da qui cazzo fossi a 10 metri ma sono qua eeeh eeeh andiamo andiamo ma dove l'ho sparato? dal muro dal muro criminale è morto è morto è morto e basta sparare e che cazzo è morto t'ho detto ok non sembrava c'era scritto quando sei pronto vai sarete bravi voi ooooooh guarda che bene e qui cosa c'è? non gliela posso dire forse questo le rinfrescherà la memoria non me l'ha rinfrescata tanto così va meglio e buona giornata hai dato troppo resto cazzo ma me li conta anche vabbè dai aspettanti ah oh no il mio cane mi finisce con i miei un boccone dal piano no ma hanno ammazzato il cane John Wick mod è finita è finita gatto è finita gatto è morto Bippone non ci voglio credere ma si dai ti ho detto che moriva però poi Karim Karim dai ci fa lo scherzone ci sta facendo lo scherzone aspetta guarda ma com'è burlone guarda che fa finta di essersi piccato lì con lo sciucamano è proprio scemo eh guarda l'evogato sconcertato il gioco è una merda cioè che poi non è vero il gioco è bello ma che cazzo ma stai scendendo da sto buco di merda poi dopo ogni piccolo dettaglio ti fa arrabbiare sempre di più no purtroppo il gioco è bellissimo costellato da porcherie dubbi mi raccomando fai andare avanti Karim è quello che sto facendo anche perchè mi spintona cagato in mano la puttana la puttana era lo sui sì senza testa ma perchè ti ha farsi adesso? ma che ne so ce ne sono un paio random eeeeeee che è successo? ma che cazzo succede? che è che? cos'è? dove è successo? non lo so ma era un roto dell'orega ma che era fortissimo ma siamo scemi cos'è doppio smash? non fa niente vai mona lo fa ancora lo rifà insiste è il ciclo della vita no sono molto molto triste cazzo non si fanno queste cose tutto ma non il cane ma non sono stato io sì 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 non sei stato come no ma sta facendo quella cosa? e io posso stare con uno che fa quella cosa? e? e ti posso mai dire che sto facendo? e allora io non ti dico che ti ho ucciso il cane perchè io non te l'ho ucciso il cane non te l'ho ucciso il cane non te l'ho ucciso il cane non te l'ho ucciso io il cane lo so che mi dici il cane no è che non sei capace a mangiare va bene? non sei capace a mangiare che adoro le cose per terra cioè beh ah il cane vuole uccidere a me a fangool che fai? andiamo devi veramente uccidere i giocatori che fai? come? che si fa? ehi non può farlo solo no non può farlo veramente solo chi ha sparato il flare ma mi sono sparato da solo come? ti giuro mi sono facciato ahahahah è veramente bello ragazzi vi devo abbandonare un attimo perchè ho preso quel colpetto di freddo adesso da andare a toilet mi metto qui in un angolino va bene lino tu vieni che spero di tornare in breve c'è un mario ok è morto non era un elite mai però c'è un cartone attivo dai se non va qui oh mamma mia oddio povera cazzo sta ricaricando porca muttana ma chi ha preso un unico è ferito malissimo si tranquilli tranquilli c'è il medikit lì ma è proprio qui la porta del monastero no non è questo o questa è questa? non lo so apre lui questa l'apre lui dove è andato? prego no ma lo ma allora jodok lino lanciami un oggetto nella stanza dove la puttana oh gatto che paura 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 ciao ma che si è ammazzato ma che è successo? è impossibile ahahahahahah però torna giù eh sta tornando giù l'elicottero ecco qua non mi spetta non mi spetta io scappo dal mare vai vedere che succede ho caduto giù dalla mappa ah ti prego ahahahah si entierà buonasera ti togliamo la capa vieni a prenderti le munizioni vieni a prenderti le munizioni grazie che è successo? perché non c'ho vita? niente è preso freddo pur nel gioco si è purtroppo